sentite questa musica ha qualcosa di particolare nel mondo musicale di cuore se ne parla cuore amore fanno addirittura rima ma questa sera questa musica che vi presentiamo realmente qualcosa di speciale sì perché è stata composta sul battito cardiaco di chi l'ha creata il metronomo era esattamente il battito del cuore il maestro che l'ha realizzata è maurizio mastrini il brano naturalmente si chiama heart cuore in inglese sì perché senza il cuore il corpo si ferma ma talvolta un miracolo è possibile il cuore di una ragazza è sopravvissuto alla ragazza stessa e il padre di questa donna si è messo in viaggio per ritrovarlo per riascoltarlo